Dopo il termometro al mercurio e le lampadine ad incandescenza, anche i sacchetti di plastica vanno in pensione. La salvaguardia dell'ambiente è ormai prioritaria. I danni provocati alla salute del pianeta sono incalcolabili. Così i paesi più industrializzati stanno correndo ai ripari. Dal 1 gennaio 2011, dunque, per fare la spesa si useranno le moderne shoppers, legalmente e correttamente dichiarate compostabili, oppure, come fanno già le massaie più attente, si tornerà alle vecchie care sport della spesa in stoffa o iuta. Li ho già eliminati da un pezzo, ne tengo una così di scorta, ma uso solo le borse di stoffa. Abbiamo un ambiente che è bellissimo, dobbiamo cercare di difenderle, basta. Giustamente, visto che verranno sostituiti più avanti, comincio già ad abituarmi a usare. Poi sono anche comodi perché non ingombrano, li tieni in borsetta e quando ti servono li hai sempre pronti all'uso. Dunque anche lei ci tiene l'ambiente? Sì, giustamente, è giusto avere un occhio di riguardo anche per l'ambiente. Meglio, è meglio, meno plastica in giro, perché la plastica è dannosa, insomma, ecco. Poi non tutti osservano le regole di dividere un po' le cose, di modo per me. Io sono contento, io mi ricordo quando ero un ragazzo con la carta, se che ti dite carta, cartone, andava bene così. Io già da casa prendo quelli che ho, che così almeno non prendo questi, per non buttare via troppa plastica.